bene ragazzi eccoci tornati qui allora oggi andremo a vedere la keypatcher come applicazione e questo qua sappiamo già tutti quanti che è il nostro primo e primissimo video allora entriamo nell'applicazione per vedere come funziona allora io questi quelli ho fatti già tutti ora ne li faccio allora bisogna cliccare sull'applicazione che volete allora basta leggere solamente qui pagamenti in app trovati allora vuol dire che quell'applicazione si può modificare allora bisogna aprire il menu delle patch crea app modificato il terzo app ricostruito con emulazione in app e lvl ricostruiamo l'app attenderemo qualche minuto eccoci di nuovo allora siccome già l'ho modificato questa applicazione vi dovrebbe uscire vedete queste tre scritte rosse dove deve uscire le prime due verdi e le altre due rosse poi dovete cliccare vai al file vi troverete qui il file e cliccate su disinstalla e installa disinstallatelo e reinstallatelo quando andrete nell'applicazione e vorrete che so tra virgolette shoppare e vi troverete benissimo cioè potrete fare di tutto ora lo testiamo non ce l'ho più vabbè provatelo poi fatemelo sapere nei commenti grazie ragazzi che dire non ce l'ho più